L'associazione folkloristica a Lanterna domenica è stata ospite ad Agrigento della 69esima Sagra del Mandorlo. Intanto l'impegno del gruppo folk continua. Sentiamo l'intervista ad Andrea Burgio. Gruppo folk a Lanterna, protagonista della 69esima Sagra del Mandorlo in Fiore ad Agrigento. Andrea Burgio, domenica scorsa siete stati protagonisti nella città dei Templi. È stato un bel modo per essere presenti. Sì, certo. Eravamo l'unico gruppo di Licata, quindi abbiamo portato il nostro folklore ad Agrigento, che è la madre del folklore provinciale, poi con la sfilata per le vie principali della città e poi abbiamo concluso in bellezza proprio con lo spettacolo nella Valle dei Templi, sotto il Tempio di Giunone, portando proprio il programma nostro marinaro con canzone tipo Piscatori e tutte queste canzoni tipiche nostre. Diversi erano i gruppi che erano presenti in questa 69esima edizione? Sì, certo. Eravamo 18 gruppi, tra gruppi folkloristici, bandie musicali e poi anche cortei storici. Proprio in questa occasione abbiamo preso noi dei contatti con altri gruppi e quindi con altre città. Già siamo stati invitati per altri raduni in ambito regionale e portare sempre il nostro folklore, il nome di Licata, in altre città. Insomma, continua l'impegno da parte dell'Associazione Folcloristica a Lanterna dopo la realizzazione del presepe vivente nelle vie di San Paolo? Sì, sono tante le attività del gruppo Folca a Lanterna. Ci stiamo impegnando, infatti, insieme all'amministrazione per organizzare altri eventi, perché proprio quest'anno ricorre il 25esimo dell'Associazione. Per l'occasione, sono aperte anche le iscrizioni, colgo appunto anche l'occasione, grazie a voi, mi date questa occasione appunto per farlo arrivare in tutte le case. Sono aperte le iscrizioni per il gruppo folcloristico dei bambini, che vanno dall'età dai 6 anni ai 13 anni. E' un punto proprio per portare anche il folklore già ai piccoli e crescere tutta questa bella passione che noi condividiamo. E infine, dicevo, stiamo collaborando con l'amministrazione proprio per organizzare diversi eventi durante tutto l'anno, questo 25esimo, a partire appunto dalla visualizzazione del presepe vivente a San Paolo e di tanti altri eventi. E le prove del gruppo folcloristico di cui ha parlato poco fa Andrea Burgio si svolgono il martedì e il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nella palestra della scuola Giacomo Leopardi. Per info si può telefonare anche al numero 334 258 1142.